La Corte dei Conti ha dato la sua approvazione con la missione e registrazione della procedura di attuazione del terminal intermodale di Gioia Tauro. Si tratta di un vaglio atteso che dimostra la correttezza dell'operato dell'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale Ionio, che ha progettato, costruito e collaudato una strategica opera pubblica in solo quattro anni. Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Andrea Agostinelli, che ha parlato di risultato finale di una procedura assai travagliata, che ha visto la sostituzione del partner dell'ente nel project financing destinato alla realizzazione e alla gestione del gateway ferroviario e che alla fine si è perfezionato anche grazie alla costante e lungimirante attenzione del Dipartimento per la Programmazione, Infrastrutture di Trasporto e Rete e i Sistemi Informativi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. La svolta epocale del porto di Gioia Tauro quindi passa attraverso il collegamento ferroviario che amplia in modo esponenziale il suo mercato di riferimento. Dal mare all'entroterra, il porto di Gioia Tauro, grazie all'avvio del nuovo terminal intermodale, assicura il passaggio diretto dei container nel mercato nazionale ed internazionale tramite ferrovia. Una linea con gli standard europei, l'infrastruttura occupa una superficie di 325.000 metri quadri con una lunghezza complessiva di nuovi binari pari a 3.825 metri ed aste da 820 metri traspuna, che consentono di far partire convoi di lunghezza pari a 750 metri. Ora possiamo guardare con maggiore attenzione in avanti e fiducia, ha detto ancora Agostinelli, a tutti gli investimenti che il PNR dedica alle infrastrutture ferroviarie per consentire l'alta capacità sulla dorsale tirrenica e su quella ionica, presupposto indefettibile per il pieno sviluppo della nuova infrastruttura ferroviaria portuale. Ma rimane il fatto che lo Stato ha progettato, costruito e collaudato un'opera considerata strategica in solo quattro anni, con una spesa per la parte pubblica di poco più di 19 milioni di euro su 20 preventivati, ma soprattutto ha realizzato un asset da sempre mancante nel porto calabrese. Il giudizio positivo della Corte dei Conti si aggiunge a quello già ricevuto e altrettanto positivo del nucleo verifica e controllo dell'Agenzia per la coesione territoriale sui tempi di attuazione adottati dalla ADSEP dei mari Tirreno Meridionale e Ionio nella realizzazione del nuovo terminal intermodale del porto di Gioia Tauro.